Mi chiamo Paolo Schumeniak, ingegnere, lavoro in Leroy Merlin ormai da 13 anni ma con un'esperienza che arriva dal retail, quindi oggi mi occupo di quello che è tutta la parte di Forecast e Replenishment per il mercato Leroy Merlin in Italia e per una quota a parte anche in alcune altre business unit come Romania, Grecia e Cipro. Curiamo sia la parte B2B, quindi con il riempimento dei nostri negozi, sia tutta la parte legata agli ordini clienti, quindi per la parte che noi chiamiamo generale B2C. L'utilizzo e la partnership con Relax nasce proprio da questo incontro della necessità di riuscire a prevedere questi due canali di vendita in maniera centralizzata. Avere una gestione che ci permette di avere la quantità desiderata dal cliente senza creare troppa sporcizia è essenziale, però di contro abbiamo 150.000 referenze da dover gestire che hanno comunque dei cambi tecnologici e che hanno anche dei cambi legati alla legislazione normale. E per riuscire a fare fronte a questo abbiamo bisogno essenzialmente di avere degli strumenti che ci diano la possibilità di fare delle previsioni, sia nel breve periodo, sia del medio-lungo. Riuscire ad avere dei Forecast che permettono di arrivare puntuali con delle stime corrette verso i nostri partner di produzione, quindi avere sulla stessa piattaforma integrata la possibilità di fare delle previsioni a lungo termine e poter comparare questi volumi con quelle che sono le capacity dei nostri nodi o delle nostre popolazioni, sia sui depositi che sui negozi, ci aiuta ad anticipare quelli che potrebbero essere dei rischi. Oggi è molto solida la collaborazione che abbiamo con RELAX, considerando che venivamo proprio da una realtà di gestione periferica, il cambio di regime, quindi una gestione più centralizzata, poteva portare delle difficoltà organizzative. In realtà il progetto è stato accolto aziendalmente in maniera estremamente positiva e ancora oggi risultiamo essere molto appealing per quanto riguarda gli altri dipartimenti, quindi la parte business, prodotto e offerta.